Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova recensione a tema Harry Potter Noble Collection ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete il 20% di sconto su tutto il catalogo Pampling questa maglietta a tema casa di carta arriva proprio adesso da Pampling e in questo momento per ogni maglietta acquistata avrete anche un paio di cazzini in omaggio quindi promozione super conveniente, vi lascio i link sotto in info box ma prima di passare al prodotto Noble Collection voglio parlare un attimo di quello che è successo di recente sul mio account Instagram che vi ricordo è antonio.seria io come vedete alle mie spalle non ho più i Funko Pop di Harry Potter qui a farmi da sfondo perché semplicemente, l'avevo già detto più di una volta, mi sono stancato i Pop mi hanno un po' stancato quelli di Harry Potter, erano diventati troppi, troppe wave, troppi personaggi doppi i prezzi stavano cominciando a salire troppo e quindi mi hanno un po' scocciato semplicemente quindi ho deciso di venderli ma di dare prima priorità a voi che mi seguite su Instagram quindi ho messo tutte le foto su Instagram, molti di voi li hanno acquistati ma molti di voi si sono anche preoccupati perché pensavano che io stessi per chiudere il canale o stessi per smettere di collezionare roba di Harry Potter ma non è assolutamente così ragazzi ho semplicemente fatto spazio, ho tolto quello che non mi dava più soddisfazione ho venduto sempre su Instagram un po' di pezzi della mia collezione che vanno al di fuori dei Funko cose che non mi interessava più tenere in collezione oppure cose che mi piacerebbe migliorare nella mia collezione ad esempio sto vendendo, l'ho venduto, non lo so neanche più Edvige all'interno della Teca Noble Collection ma l'ho venduta semplicemente perché mi piacerebbe acquistare Edvige sempre di Noble Collection ma quella in scala 1 a 1, quella molto più grande quindi per me non ha più senso tenere quella nella Teca e per questo l'ho data via anche alcune collane, ciondoli, un po' di cose che non mi servivano più in collezione molti si sono allarmati, mi hanno contattato su Instagram temendo il peggio ma ragazzi io sono qui, non mi muovo, non me ne vado continuerò a spendere soldi in roba di Harry Potter continuerò a portare i libri, continuerò a portare i prodotti Noble Collection Running Press, Jim Kay, Mina Lima e tutto quello che ne consegue Box eccetera eccetera quindi ragazzi premessa fatta detto questo prima di aprire la nostra Clessidra che io bramavo da un sacco di tempo ho due pacchetti che mi sono arrivati da Amazon mi sono stati inviati da due aziende e volevo un attimo segnalarveli mi è stato inviato da Apeman questo videoproiettore LC550 che trovate sotto in infobox linkato ad Amazon ed ha una risoluzione di 1080x720 ragazzi io volevo farci un video ve l'avevo detto anche su Instagram però l'ho provato secondo me non è proprio il massimo per vederci dei film secondo me è più indicato per delle proiezioni magari di PowerPoint e cose del genere io ho già un altro proiettore ne ho avuti due in precedenza e quindi mi è sembrato un po' inutile farci un video interamente dedicato su questo ma ragazzi io vi linko sotto sia questo qui per chi fosse interessato perché comunque è un prodotto abbastanza buono si può utilizzare per guardare serie tv e film ma non per guardarli in altissima definizione o in schermi particolarmente grandi io l'ho provato su circa 100 pollici e devo dire che ha perso abbastanza qualità mentre quello che ho in questo momento io ha una risoluzione decisamente più alta però è anche vero che costa circa il doppio rispetto a questo qui che trovate per poco più di 50 euro su Amazon quindi qualità prezzo ci sta tutto 50 euro come entry level per iniziare ad approcciarsi al mondo della videoproiezione va più che bene questo modello qui io ho cominciato con una cosa del genere poi sono passato ad altri modelli un pochino più sofisticati, evoluti che non sono top di gamma non è nulla di eccezionale ma hanno una qualità dell'immagine superiore quindi ragazzi vi lascio il link sia a quello che possiedo già sia a questo per quanto riguarda la protezione con questi dispositivi io vi consiglio o una parete bianca o la tenda di Ikea che io ho acquistato per circa 20 euro che secondo me è ottima e che vi linko sempre sotto in info box detto questo per qualsiasi informazione ragazzi mi raccomando contattatemi sia nei commenti che in privato su Instagram Antonio.seria e sarò assolutamente disponibile a chiarirvi tutti i vostri dubbi e secondo pacchetto invece che mi è arrivato è questo qui che mi è stato inviato da un'azienda che conosco ormai abbastanza bene e che produce Power Bank si tratta di Easy Hack io devo dirvi di loro mi fido tantissimo perché prima ancora di cominciare a fare i video ho acquistato diversi loro Power Bank che tutt'oggi a distanza di circa 5 anni io li continuo ad utilizzare e funzionano benissimo mi hanno inviato questo che se non sbaglio è un Power Bank da 20.000 mAh però non so assolutamente che forma abbia questo Power Bank ok è abbastanza pesante naturalmente ma è molto bello mi piace è arancione ha i led di stato qui 4 led come tutti i prodotti Easy Hack ha ben 4 porte USB Smart è una torcia quindi devo dire che è molto molto carino troviamo naturalmente il cavo ragazzi sono prodotti senza infami e senza lode sono prodotti però che tornano sempre molto utili quindi grazie Easy Hack per questo pacco e trovate il link in info box ma adesso passiamo alla nostra Clessidra di Lumacorno eccola qui ragazzi finalmente è tra le mie mani la Clessidra di Lumacorno di Noble Collection questo è probabilmente il pezzo Noble Collection che ho più bramato da quando colleziono e ragazzi vi dirò la verità non è stato facile comprarla perché costa davvero una fucilata costa davvero tantissimo io l'ho pagata su Amazon circa 170 euro che sono davvero tantissimi soldi lo so benissimo ed è costata addirittura di più rispetto al diadema di Corvo Nero che vedete alle mie spalle che era il pezzo più caro della mia collezione Noble Collection ma ragazzi io temevo che andasse fuori produzione è già abbastanza difficile trovarlo e quindi mi sono deciso e l'ho acquistata ragazzi io l'ho già tirata fuori dalla box di Amazon perché volevo verificare le condizioni esterne per lo meno per verificare se ci fosse qualcosa di rotto se fosse ammaccata sembra tutto a posto quindi adesso direi che possiamo aprirla con tranquillità questa mi è arrivata circa tre giorni fa quindi avevo assolutamente fretta di vedere se almeno le condizioni esterne fossero in buono stato e devo dire che sembra tutto a posto detto questo finalmente andiamo a togliere la carta esterna eccola qui non vedevo l'ora e ragazzi avevo già intravisto che mi hanno inserito anche questo che è il catalogo di Noble Collection con tutti i prodotti di Harry Potter e questo io l'avevo già visto in digitale sul sito di Noble Collection ma mi fa tantissimo piacere averlo in cartaceo dentro ci sono tutti i prodotti anche quelli del Signore degli Anelli comunque tutti i prodotti della collezione di Noble Collection e questo qui poi me lo guarderò con calma ma ragazzi ci siamo ecco qui andiamo ad aprirla dobbiamo intanto tirare questa slipcase che non vorrei strappare ma sembra impossibile da rimuovere e quindi direi che lo faccio e ve lo risparmio ok è stata una gran faticaccia ragazzi non volevo assolutamente saperne di sfilarsi ma ci siamo riusciti adesso il solito bisturi alla mano e andiamo ad aprire da questo lato come da indicazioni quindi uno, due e tre ragazzi spero sia integra perché potrei piangere tantissimo è tutto ben protetto come al solito dentro il polistirolo quindi questa come al solito grandissima cosa si riduce davvero al minimo il pericolo che qualcosa si possa rompere e visto i prezzi mi sembra anche giusto e dopo aver fatto anche questa estrazione ragazzi non ci resta che passare al taglio finale dello scotch di protezione e andare ad estrarre la nostra clessidra e quattro ci siamo ragazzi ci siamo andiamo ad aprirla e incrociamo le dita ok ragazzi eccola qui eccola qui in tutto il suo splendore sembra integra stento a crederci ma sembra assolutamente integra dentro c'era tutto questo materiale spugnoso per proteggerla anche dall'altra parte quindi era assolutamente ben protetta e ragazzi eccola qui con già la sua sabbia che scorre la sua sabbia di colore verde e adesso andiamo a guardarla un po' meglio nel dettaglio era da tantissimo tempo che volevo stringerla tra le mani e ragazzi posso dirvi che come ben aspettavo è molto molto fragile è totalmente in vetro le due estremità della clessidra sono in vetro e anche queste parti in verde sono vetro la cosa che mi sta abbastanza stupendo è che le parti queste qui grigie quindi le teste dei serpenti e le code io credevo fossero dipinte in argento e invece è un rivestimento il vetro verde è rivestito con questo materiale che sembra proprio del metallo è freddo al tatto ed è abbastanza pesante appesantisce abbastanza la clessidra e devo dire che toccandolo mi sembra proprio una rivestitura una sorta di scocca in metallo che è anche abbastanza positiva come cosa visto che aiuta a poggiare la clessidra sia da un lato che dall'altro senza rischio di romperla perché essendo totalmente in vetro i piedini in questo caso le teste dei serpenti sono di metallo e quindi riescono molto ad aiutare nella stabilità e nell'evitare che poggiandola con forza possa esplodere magari il vetro quindi questa cosa molto molto positiva devo dire che i dettagli sono veramente veramente belli non ci sono sbavature non ci sono non c'è colla a vista si vede solamente attraverso il vetro un po' di colla che va a tenere assieme i quattro lati dei serpenti ma per forza di cose da qualche parte dovevano attaccarli ma devo dire che questo si vede solamente proprio avvicinandosi e guardando attraverso il vetro mentre così devo dire che è esposta fa proprio la sua gran bella figura l'unica differenza con la clessidra che abbiamo visto nel film è il colore della sabbia in questa qui Noble Collection è di questo bel verde invece nel film l'ho visto proprio di recente è color sabbia è una sorta di beige io non so perché abbiano cambiato il colore nella versione Noble Collection nella versione del prop da acquistare però in ogni caso a me piace è davvero bella e se andate sul sito di MinaLima è in vendita la stampa con l'artwork di questa clessidra che hanno disegnato loro è stata disegnata da MinaLima e nell'artwork la sabbia è verde quindi io credo sempre di più che i prodotti Noble Collection si basino sui disegni di MinaLima e non tanto sui film quindi per questo secondo me di solito troviamo qualche piccola variazione rispetto a quello che abbiamo visto nei film secondo me sono proprio basate sui disegni sui schizzi di MinaLima e ragazzi non c'è molto altro da aggiungere il prezzo è altissimo è salatissimo però è un prodotto che a parer mio ha un costo di lavorazione abbastanza alto e probabilmente tengono conto anche del fatto che durante il trasporto secondo me una buona parte può rompersi e quindi vanno a sostituire diversi pezzi di questa clessidra e per rientrare nelle spese e per il rischio che corrono nello spedirle probabilmente il prezzo è alto anche per quello anche se vi dico che io ricordavo costasse meno fino a qualche anno fa secondo me si trovava anche a 120 euro infatti sono rimasto un po' stupito quando ho visto il prezzo di 170 euro ma sono andato sul sito Noble Collection e gli è venduta a circa 159 euro quindi credo proprio abbiano aumentato i prezzi di listino ragazzi detto questo io resto a vostra completa disposizione questa clessidra mi piace davvero tantissimo spero che il tempo stia scorrendo veloce e che non vi stia annoiando perché per chi non lo sapesse la clessidra di Lumacorno ha uno scorrere del tempo diverso in base a quanto è interessante la conversazione in corso spero di avervi interessato spero di avervi tenuto compagnia con questo unboxing fatemi sapere se voi l'avevate già se volevate acquistarla se siete in dubbio io ve la straconsiglio è davvero un gran bel pezzo da collezione e ragazzi vi ricordo che in infobox trovate sia il link alla clessidra diretto ad amazon che alla mia vetrina amazon il negozio a tema Harry Potter e nerd che ho creato in collaborazione con amazon trovate tutto sotto in infobox non dimenticatelo detto questo vi ricordo anche il mio instagram antonio.seria e do il benvenuto ufficialmente a circa mille nuovi iscritti che in questo periodo di quarantena si sono aggiunti sul canale quindi benvenuti a tutti grazie a tutti e ragazzi io adesso chiudo il becco e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao a presto